ragazzi come sapete nell'ultimo periodo ho iniziato questo nuovo piano alimentare visto tutte le problematiche che vi hanno trovato e devo dire che sto molto meglio ma vi volevo parlare del mio spuntino allora a diversi anni parlo sempre dei miei spuntini, dei miei pranzi ve ne consiglio uno davvero ottimo che io si mangio dopo l'allenamento ma anche se non faccio l'allenamento magari se sono di fretta, sono di corsa o con il caffè ora vi faccio vedere allora, ora vi faccio vedere questi sono i miei spuntini preferiti e ora vi faccio vedere cosa faccio col caffè vi dico tutte le barrette di Fusspring gli ingredienti che ci sono all'interno e i gusti che sono buonissimi la mia preferita è il cocco ma dopo ci arriviamo allora, caramello morbido, questa cioccolato bianco e mandorle arachidi croccante buonissima doppio cioccolato e anacardi cocco croccante questa è la mia preferita quindi apriamo proprio questa e ora vi faccio vedere ed ecco qui e me la mangio bene 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 buonissima meglio è ancora più buona se fate sciogliere un pezzo di barretta dentro il caffè potete farlo anche americano un po' più lungo e vi assicuro che non dovrete mettere lo zucchero ma in questa barretta darà al caffè un gusto spettacolare buonissimo vi ricordo che questi 5 gusti di barrette extra chocolate non dureranno tantissimo perché in estate saranno ritirati quindi approfittatene vi lascio qui il link in swipe e il mio codice sconto dato che non so quando torneremo a viaggiare io oggi vi voglio fare questa sorpresa e vi porto alle UI con pure lei con questa collezione che ora vi faccio vedere bellissimo quindi vi faccio vedere la nuova collezione che si chiama Signature Collection così vi faccio vedere anche come abbinare queste bellissime cose i prodotti che ho scelto da pure lei sono pazzeschi sono tutti ispirati alle isole delle UI ora vi faccio vedere un pochino come si possono abbinare aiutatemi però guardate questa è spettacolare guardate che bella stupenda poi potete abbinarci anche ora vi faccio vedere aspetta che metto il telefono qui questa che secondo me è bellissima così o anche un po' più stretta ora lo proviamo insieme vedete si può fare o questo gioco qua che c'è qua la P di pure lei oppure lasciarla un po' più lunga ma secondo me un po' più corta è più bella questo è poi possiamo abbinarci gli orecchini che ho scelto questi che sono spettacolari ora ve li faccio vedere indossati ecco lo stretta così vedete l'effetto che fa guardate che bello con i suoi orecchini quindi questo è il primo look abbinato oppure vi faccio vedere il secondo che è bellissimo tengo però sempre questa collana perché sono i miei pezzi preferiti di questa collezione di pure lei questo invece è il secondo look ho tenuto gli stessi orecchini e questa collana che secondo me è bellissima e ho abbinato quest'altra collana qui c'è anche il braccialetto uguale che secondo me è bellissimo quale vi piace di più? oltre che in oro giallo come vi ho fatto vedere io le potete trovare in oro rosa e in argento ovviamente come sapete io tutto quello che indosso è oro giallo perché adoro l'oro giallo e mi sta molto bene piuttosto che l'argento vi assicuro che ci sono tantissime cose bellissime che potrete trovare sul sito di pure lei e proprio per questo vi lascio uno sconto del 15% il codice ve lo scrivo qui che durerà fino a 48 ore quindi fate swipe di più di più di più di più di più Grazie a tutti